Un grande applauso, chiamandolo sul palco, Matteo! André, André! Mentre pregano postazione... André! Mentre prendono postazione, Andrea, io farei fare anche un saluto al segretario regionale, velocissimo, poi vi parlerà anche dopo, ovvero colui che poi ha deciso di fare questa festa in un salotto, eravamo una piccola riunione nata da lì, la festa, guardate quanti siamo, che bella gente c'è stasera, ovvero il segretario regionale della Lega Nord Toscana, Manuel Vescovi. Io vi chiedo ancora un grandissimo applauso per Del Depio e Matasso Alvini, due protagonisti della Senata. 2013, siamo partiti qui, pensate nel 2013 la Lega Nord con lo 0,67%, 2015! 16% secondo partito in Toscana di opposizione, anzi di alternativa, opposizione 5 Stelle. Noi siamo alternativa e nel 2020 saremo noi in Toscana a governare, forse prima. E la differenza tra noi e loro qual è? Ve la voglio dire, faccio vele auce però ve la dico, che noi ci alziamo la mattina tutti i giorni e pensiamo agli italiani, loro si alzano la mattina tutti i giorni e pensano agli immigrati, e questa è la differenza di base. L'altro giorno in aula il presidente di questa regione ha portato due interventi. Uno è io ero immigrato e l'altro è l'osservatorio per l'antifascismo. Noi portiamo come ridurre le liste d'attesa della sanità, questa è la differenza tra noi e loro. Grazie e buon lavoro a tutti! Andrè! Me lo blocchi Barabotti per favore. Barabotti, me lo chiami un secondo. Te lo andavo via ora? Te lo dico la barba, grazie. Matteo, 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 vi sono siano in piedi, una fuori, una fuori, una fuori, una fuori, una fuori, una fuori, ok. Un attimo. Grande, grazie. Avvertimi Morisi. Grazie! Buonasera a tutti, grazie a Manuel Vestoli dell'invito, sono venuto volentieri, sono venuto volentieri perché per il mio amico Matteo Salvini e sono venuto volentieri perché sono in Toscana. e appunto, e siccome assicuro Matteo che a Scandici così tanta gente forse c'è stata ai tempi negli anni 50 quando veniva Berlinguerra, dopo non c'è più stata la 50. è un successo che va naturalmente a chi lavora in Toscana perché evidentemente la Lega in Toscana fa un lavoro eccellente, è presente e quindi quando si chiama quella gente risponde, ovviamente. prima di cominciare, però, vorrei Matteo, che salutassimo e ci mettiamo, eh, e ci mettiamo, vorrei chiamare sul palco Luigi Ciatti e il papà di Nicolò. Applausi. Purtroppo non c'è più. Applausi. E siccome Matteo stanno provando a rimandare, a fare i furbi eccetera, allora gli ho detto Luigi, io nel mio piccolo, per quanto posso, quinta colonna è lì, quando vuole venire da me, eccolo qua. Grazie. Questo è il calore della gente, secondo me è un calore che se troviamo il modo e lo troveremo, di far sapere a che punto siamo e come stanno andando le cose, questo calore può diventare molto più forte e poi come Matteo sa bene, certe cose che vengono nascoste e poi se ci si mette sopra il riflettore magari cambiano anche e si riesce a velocizzare un po' l'atto di giustizia, perché questo è quello che vuoi, no? Io voglio esclusivamente la giustizia per il mio figlio. Scusatemi. Perché non è giusto che un ragazzo è andato in vacanza soltanto per divertirsi, come la maggior parte dei ragazzi italiani, in questi posti dove ci sono tante persone, tanti giovani ma loro vanno in discoteca esclusivamente per ballare, divertirsi, conoscere altri ragazzi, ragazze, trovarsi di fronte a queste tre... peggio delle bestie perché io non ho avuto il coraggio di vedere il filmato che gira su internet perché l'ho fatto per rispetto a Di Nicolò. però vi posso dire che chi l'ha visto, persone molto più esperte di me, mi hanno detto che quel colpo che ha ucciso il mio figlio o uno dei colpi che può aver ucciso il mio figlio è stato dato perché è stato voluto fare. Cioè lui ha colpito per uccidere e non siamo in guerra, erano in discoteca per divertirsi. La sfortuna ha voluto che incrociasse mio figlio che probabilmente erano 1500 persone, si saranno sfiorate, toccate, non lo so. Mio figlio si sarà girato e questo credo, credo, la prima cosa che ha fatto è che gli ha dato un pugno e non è un pugno di ragazzo normale, è un pugno di persone che fanno questo lavoro, cioè praticano arti marziali non normali come devono essere, ma per uccidere. E l'ha portato a tempo perché quando mio figlio era in terra, fermo in erbe, ha dato un calcio per ucciderlo. Quindi quando io sento, leggo che è un bravo figliolo, detto dal suo istruttore, è un bravo ragazzo che non può essere, cioè è assurdo. Io quello che dico vorrei soltanto mettere questo istruttore, se magari ha un figlio al mio posto e vorrei sapere cosa ne pensa di questo suo bravo ragazzo. Grazie. Eccoci qua. Faremo quello che è possibile fare perché questa storia non si dimentichi. prego, prego. Allora, Matteo, ci siamo? Bene, cominciamo. Allora Matteo, come stai che un po' continuo? vedo. Innanzitutto non sono potuto venire a Ponte di Legno, che sarebbe stata un posto dove vengono volentieri, ma c'ho avuto qualche problema, quindi non sono potuto venire. Però, insomma, ci vediamo ora. Come ti senti? Come sei in giro continuamente? Che vedi? Che senti? Innanzitutto sento una grande responsabilità e la tocco con mano ovunque io vada, dal Piemonte a stasera in Toscana e chiedo l'applauso di farvelo a voi stessi perché è una domenica con un tempo come questo, con quello che è successo al giorno, con alcuni morti che meriteranno giustizia, Paolo, perché non è possibile che ogni volta che piove più del previsto si debba seppellire qualcuno perché non si poteva prevenire questo. bisogna mettere in sicurezza il territorio italiano da nord a sud e se i vincoli europei ci impediscono di spendere i soldi per mettere in sicurezza le nostre città, ce ne freghiamo a dei vincoli europei perché la vita viene prima di tutto e la salute dei cittadini viene prima di tutto. Quindi ho voglia, sento un'enorme responsabilità, guardo il calendario come quando ero al militare e tolgo i giorni che ci separano dalle elezioni politiche perché il PD e i compagni potranno tirarla in lungo fino a gennaio, fino a febbraio, fino a marzo, ma poi ci sarà il voto degli italiani e siccome io penso che gli italiani ci manderanno al governo non voglio sbagliare niente e voglio cominciare a fare quello che per il momento sto dicendo che mi piacerebbe fare. Allora, cominciamo di qui e poi vediamo, perché per andare al governo ci vogliono due cose fondamentali. Una, il gruppo che si propone alle elezioni da farsi votare, poi ci vuole chi lo vota naturalmente, ma questo è un fatto da vedere dopo. La seconda cosa da fare è fare un programma con cui proporsi agli italiani. Parliamo di queste due cose stasera, come facciamo in semplicità senza nascondersi dietro a dita o le mani o le piedi. Allora, la coalizione è il candidato premier, lì c'è scritto Salvini Premier e tu hai detto anche oggi, se non sbaglio mi sembra di averlo visto da qualche parte, questa è la volta della Lega e ho visto che qualcun altro ha detto no, vediamo. Allora, lì a che punto siamo? C'è un accordo sulla coalizione che si presenta sul candidato premier o siamo ancora che poi succede come è successo in certi comuni dove per non mettersi d'accordo poi alla fine si perde? Dopo Monti, Letta, Renzi e Gentiloni penso che gli italiani meritino di meglio. Quindi io lavorerò per avere una coalizione di centrodestra la più ampia possibile, la più coerente possibile, questo l'ho detto a Berlusconi, non farmi rivadere neanche in cartolina le facce di alcuni poltronari, Alfano, Fini, Verdini, Cecchito, Casini, no grazie, altrimenti si comincia a litigare il giorno dopo le elezioni e lui risponderà a quei fatti, tanto in Sicilia Alfano l'abbiamo eliminato e poi la cosa fondamentale sono le cose da fare, io faccio politica per cambiare la vita della gente e quindi il programma dovrà essere condiviso, se io sto girando l'Italia da tre anni e sto ripetendo qual è la prima legge che vado a cancellare se mi mandano al governo, tutti devono essere d'accordo con me sul fatto che la prima legge che cancelliamo se ci mandate al governo è la legge Fornero, accidenti a lei, accidenti a fila votata, perché andare in pensione dopo 40 anni di fabbrica, di ospedale, di insegnamento, di camion, mi sembra un sacrosanto diritto a guise, tu vedi, su alcune cose si può disquisire, su altre no, cioè sulla flat tax, sulla tassa unica, noi l'abbiamo studiata, pensata e depositata al 15%, pagare meno per pagare tutti, lo Stato vi rompe le scatole una volta all'anno ma non chiedendomi il 60% di quello che avete guadagnato durante l'anno, ma chiedendolo che meno e chiedendolo a tutti. L'Elusconi dice che però forse il 20, forse il 22, perché dai, non inchiodiamoci le cifre, mi interessa il principio e quindi io penso che siamo a buon punto, anche perché gli italiani su alcune cose tu lo sai, come me, non chiedono 6.000 cose, chiedono lavoro in più e quando intendo lavoro non intendo i contratti a 3 euro all'ora a tempo determinato rinnovabili di 15 giorni in 15 giorni e se sei donna e aspetti un figlio hai finito di fare quel lavoro. 3 euro all'ora sono schiavismo, sono sfruttamento, non è lavoro. Poi chiedono un po' di sicurezza, di far due passi col cane o con i bimbi la sera per scandicci senza l'elmetto in testa, lo scudo, lo spray al peperoncino perché non si sa mai chi si incontra e quindi stare tranquilli. Poi vediamo quello che è successo poco lontano da qua, perché in Italia ogni mattina quando io mi alzo ringrazio Dio per quello che mi ha dato, ma ringrazio anche i 200.000 carabinieri e poliziotti che lavorano in Italia per difendere le nostre vite dalla mattina alla sera. Due di questi 200.000 a Firenze hanno sbagliato? se sarà evidente questo, chi sbaglia indossando una divisa ha il doppio delle responsabilità rispetto al normale cittadino, non la metà delle responsabilità, il doppio delle responsabilità. se vi chiedete che cosa penso io è che è molto strano quello che è successo, due ragazzi che indossano una divisa da tanti anni, non arrivati all'altro ieri, con la macchia nel servizio indossando la divisa fanno quello che sono accusati di aver fatto nell'androne di un condominio e nell'ascensore di un condominio. Ripeto, chi mette le mani addosso con la violenza a una donna o a un bambino, per me deve marcire in galera fino alla fine dei suoi giorni. Può essere bianco, giallo, rosso, nero, verde, fucsia, non mi interessa. Lo diceva la ragazza là in fondo, il governo polacco ci chiede le quattro bestie che hanno stuprato Rimini, ma mandiamogliere domani mattina sul primo aereo, così almeno stanno in galera sul serio e pagano sul serio, visto che qua fra sconti di pena, indulto, buona donna. Ho letto l'intervista del babbo e della mamma dei due minorenni marocchini, a parte il fatto che erano stati più in galera e fuori di galera nella vita. E poi ragazzi, sono ragazzi di 15-16 anni, mio figlio ne fa 15 l'anno prossimo, ma se butta una carta per terra, io gli tiro due schiaffoni. Ragazzi di 15-16 anni che vanno in giro a stuprare, non sono ragazzi. E quindi attendiamo di capire cosa è successo veramente a Firenze e se qualcuno ha sbagliato, anche semplicemente facendo durante l'orario di servizio quello che non si fa durante l'orario di servizio per rispetto dei loro colleghi, devono mollare il lavoro e la divisa domani mattina. Per non tirare il ballo anche tutto reso. Però posso avere dei dubbi sulle ricostruzioni dei giornali di questi giorni? Posso avere dei dubbi sullo strano tempismo con cui è uscita questa vicenda? Posso avere dei dubbi su qualcuno ai vertici dell'arma che ha avuto diversi contatti con un vostro concittadino che abita non lontano da qua? E quindi chi sbaglia paga. Però non permetterò che qualcuno a sinistra usi questa vicenda per infamare e attaccare polizie e carabinieri che meritano di essere onorati e rispettati 365 giorni all'anno. Bene. Guardiamo un po' con chi si va alle elezioni questa volta, perché insomma sarà un quadro... Facciamo delle fotografie, così ognuno poi se le ricorda le mette nell'album. Allora, cinque stelle. I cinque stelle parlano di un mondo che dovrebbe venire più giusto, più bello, più colorato, più equo e tutto questo. Poi dopo ovviamente quando vanno, ovviamente quando vanno al governo hanno qualche difficoltà. Vedi Roma e vedi Torino. Chi segue la mia trasmissione sa che io mi occupo di periferie. E lì io ci metto il naso praticamente tutte le trasmissioni. Domani sera ricominceremo e ricominceremo a mettere il naso in tutte le periferie. Ok? Le periferie di cui mi occupo sono generalmente Milano, Torino e Roma. Allora, siccome non è che uno che vuole andare al governo nazionale, per uno che vuole andare al governo nazionale, non è irrilevante quello che fa in un'amministrazione comunale o regionale, capito? Perché il programma di uno che si candida a governare, il programma è quello che ha già fatto. Siccome in tanti posti governano, quello è il programma, no? Allora, come li vedi questi signori guardi 5 Stelle, Matteo? Io sono curioso, per natura ascolto tutti e mi confronto con tutti. Alcuni errori però sono stati pesanti. Io ricordo che in Parlamento i 5 Stelle hanno votato col PD. Scusate, ma siete troppi e fa un caldo della Madonna. E quindi meglio troppi che voi. Togliti la giacca che se no mi sentivo... Critica numero 1 ai 5 Stelle. In Parlamento hanno votato insieme al Partito Democratico per cancellare il reato di immigrazione clandestina. E invece per quanto mi riguarda entrare illegalmente in un paese o in una casa è un reato, ti piglio e ti riporto a casa tua. Perché in Italia non può entrare chiunque come se nulla fosse perché c'è sposto per tutti. Secondo, Roma. Non so quanti di voi vengono a Roma per turismo o per lavoro. È messa peggio rispetto a com'era un anno fa. Poi hanno questa proposta di regalare il reddito di cittadinanza, estesa anche ai cittadini immigrati. E io penso che ne stiamo già regalando troppi i soldi a chi è arrivato ieri mattina. Io al governo, piuttosto che regalare i soldi a chi sta a casa, uso quei soldi per ridurre le tasse a chi fa impresa e crea lavoro veramente. Agli artigiani, ai commercianti, agli imprenditori, ai liberi professionisti. Perché siamo in Italia e se dai soldi, dai 700 euro al mese a qualcuno per stare a casa, e allora ragazzi, qua se qualcuno va a lavorare per 600 euro al mese si domanda, e io sono Pirla, che vado a lavorare a me da 600 e il mio vicino sta a casa e gliene da 700. Pirla vuol dire bischiaro, eh? No, se no. Pirla è milanese, bischiaro in toscana. Vabbè, ci siamo capiti, sì. Poi, io ho tanti difetti, però cerco di essere coerente, mi ritengo di essere coerente. 5 Stelle ogni tanto cominciano la battaglia in Europa e poi la mollano, cominciano la battaglia in Italia e poi la mollano. Faccio un esempio, non dal segretario della Lega, il dibattito di quest'estate, da papà, sui vaccini. Io ho due figli e li ho vaccinati, per scelta, non perché qualcuno mi ha obbligato. E io ritengo immorale che per un decreto legge l'Italia sia l'unico paese europeo che obbliga mamma e papà a fare 10 vaccini contemporaneamente ai loro figli senza prima aver verificato che questi bimbi possano sostenere 10 vaccini contemporaneamente. E se qualcuno ci sta male è un effetto collaterale. No, anche perché io ho fatto una pertosse, ho fatto tante malattie che tutti noi abbiamo fatto, obbligano i vaccini e poi c'è una bimba di 4 anni che va in ospedale e muore di malaria, che non è normale nel 2017 andare in ospedale e morire di malaria. E quindi la battaglia la faccio, perché ci tengo alla salute dei miei figli, ci tengo alla salute dei vostri figli, però spiegando, educando e lasciando liberi di scegliere gli unici padroni dei bambini, che sono mamma e papà. Oltretutto, con fatto da sinistra la cosa odiosa, Paolo, che se sei ricco te ne puoi fregare. Perché se sei ricco paghi la multa e mandi il tuo figlio a scuola. E se non sei ricco ti attacchi al tramo. E quindi o il vaccino fa bene o il vaccino non fa bene. 10 sono assolutamente fuori dal mondo ed eccessivi. Non vorrei che qualcuno avesse fatto un regalo alle multinazionali del farmaco che avevano da incassare un po' di quattrini sulla pelle dei nostri figli. E anche su questo i cinque stelle ha cambiato 18 volte. Rimaniamo, visto che hai detto le parole mamma e papà, rimaniamo un po' su questo tema. Perché come tu saprai, ma non tanti lo sanno, ora dico una cosa anzi e voglio sapere quanti la sapevano. Allora, sono in circolazione in Italia, tra 45 e 50 non ho più il conto esatto, sono in circolazione in Italia, tra 45 e 50 libri di testo che vanno nelle scuole elementari e medie, nei quali è scomparso il nome mamma e papà. Ok? Lo sapevate? Questo è un gruppo di cervelloni. Lo sapevate? Qualcuno sì, qualcuno no. Beh, questi testi sono obbligatori, nel senso che in alcune scuole non c'è il libro di testo più questi. Ok? Questo è il libro di testo. Allora, capite bene che questo è un problema, Matteo, un problema piuttosto grosso. Questo vuol dire che se sono 50 ad oggi diventeranno 100 fra un anno, 150 fra due anni, 300 fra qualche anno. Ora, qui forse è il caso di fermarsi e rifletterci un po'. Ad esempio chiedere agli italiani se sono d'accordo che in un libro di testo di educazione sessuale o comunque di educazione civica scompaiano il nome papà e mamma a favore di genitore 1, genitore 2, genitore che cambia sesso eccetera eccetera. Ok? Anzi, sono sei le categorie di possibili configurazioni sessuali che uno può scegliere. Ce n'è anche una, e poi sento cosa dice Matteo che mi ha colpito particolarmente. Ce n'è una, perché c'è, eterosessuale, omosessuale, trans, eccetera eccetera, poi ce n'è una, cioè variabile, nel senso, si fa ridere ma c'è veramente, nel senso che durante la vita e neanche a tanto, diciamo, a grande intervallo, ma ogni po' si cambia. Sarebbe come di oggi mi vesto di rosso, domani di bianco, domani l'altro di verde. Oggi sono così, domani sono così e poi se mi gira sono così ancora. Allora, questo che sembra una barzelletta è la realtà, ok? Cioè ci stiamo spostando piano piano, senza fare troppo clamore, verso una situazione di questo tipo. Matteo. Lo dico con tutto il rispetto per le scelte di vita di tutti, lo dico anche alle migliaia di persone che ci stanno seguendo in diretta Facebook da tutta Italia, fate sentire il calore di scarticci. Perché facciamo concorrenza alla partita, non so che partita ci sia, oggi in Milano ha preso quattro pere, quindi non parlo di calcio e lasciamo perdere. No, io mi propongo di andare al governo per migliorare l'economia, però la vita non è solo lavoro, pensioni, tasse, sono anche valori e anche l'uomo e anche la donna. Per quanto mi riguarda esistono solo la mamma e il papà. E il bambino viene al mondo se ci sono la mamma e il papà o viene adottato se ci sono una mamma e un papà. Tutto il resto può essere libera scelta dei singoli che non deve ricadere sulla pelle dei bambini. Quando parlo e sento parlare di adozioni gay, dico no perché il bambino ha diritto di avere una mamma e un papà. Poi ognuno nella sua vita fa quello che vuole, con chi vuole, come vuole e dove vuole. Però piuttosto se devo intervenire sulle adozioni e lo faremo, le renderemo più veloci e meno costose perché non puoi aspettare 4 anni a spendere 50.000 euro per andare ad adottare una creatura. La scuola purtroppo è... alcuni dovrebbero essere vaccinati, ma non contro il mobilo, contro il cretinismo. Alcuni dovrebbero essere vaccinati contro l'ignoranza. Però il vaccino, il cretinismo e l'ignoranza ancora non è stato... perché quando hai a che fare i commenti, i cuori di bimbi e bimbe di 6, 7, 8 anni, a me è capitato di confrontarmi con pseudoeducatori che dicono che alcune fiabe non vanno bene. Cenerentola non va bene perché è una fiaba sessista. E uno che ritiene che Cenerentola sia una fiaba sessista non dovrebbe insegnare, ma dovrebbe andare a fare un altro mestiere, perché vuol dire che hai avuto dei problemi da piccolo. Quindi a me lo sottoposero Paolo quando iscrissi mio figlio a scuola, il modulo alla scuola materna, dove c'era genitore 1 e genitore 2. Io non firmai un accidente, perché io sono il papà, non sono un genitore 1 o un genitore 2. E quindi rispettando la libertà di scelta di tutti, io cercherò di riportare le lancette dell'orologio a girare in senso orario, perché nel nome dei presunti diritti stanno uccidendo la società. E il mio primo indicatore positivo, se sarò al governo, non sarà il PIL, i dati ISTAT, quello su cui vorrò essere messo alla prova e promosso da voi. Il primo indicatore che io vorrò controllare in Italia e far ripartire in Italia è quello delle culle piene. Io vorrei che gli italiani tornassero a fare figli e a scommettere sul futuro, potendoselo permettere. Perché altrimenti è un paese... Attenzione, perché poi adesso si avvicina al Natale e qua siamo al secondo vaccino contro il cretinismo e l'ignoranza. Perché non so, Oscar, dici, ma a Milano ogni anno quando si avvicina al Natale, mi chiamano centinaia di insegnanti, maestri, genitori, perché in quella classe non vogliono Gesù Bambino, in quella classe non vogliono il presepe, non si festeggia il Natale, ma è la festa della neve, è la festa dell'inverno, è la festa del colore bianco, è la festa dell'abete del pino silvestre. Per quanto mi riguarda, l'Italia è e sarà un paese accogliente e rispettoso di chiunque. Il 25 dicembre viene al mondo Gesù Bambino, se ti va bene così, se no torni a casa tua. Se non ti piace il Natale, non ti piace il presepe, torni a casa tua e fai quello vuoi. Ma ti porti indietro l'insegnante di sinistra che avalla queste castronerie, perché ci sono un po' troppo insegnanti cresciuti a pane nel 68, per cui esistono alcune stragi ma non ne esistono altre, quindi giustamente vengono raccontati i crimini del fascismo, ma le foibe non si sa che cosa siano, come se ci fossero morti di serie A e morti di serie B. La scuola deve raccontare, e quindi giù le mani dalla mamma, dal papà e soprattutto dai bambini. Ecco, lì bisogna, Matteo, io te lo dico perché è un tema che sto seguendo, mi ha chiamato la varie fatte a parlarne, eccetera. Bisogna sbrigarsi, perché il problema di un cretino è che non lo sa di essere cretino. Perché se un cretino sapesse di essere cretino, non lo sarebbe già più. Perché se mentre incontri una persona intelligente, quella persona qualche dubbio ce l'ha, no? Tutte le persone intelligenti si pongono un po' di dubbio, sarà giusto, non sarà giusto, farò bene, farò male, discute, no? Il cretino, generalmente, non si riconosce perché ti dice, è così, così e così. Te lo vedi in faccia che è cretino, solo che non lo capisci, capito? No, io ve lo dico perché io ne incontro tanti, capito? Le intervisto tanti io, sicché lo vedo da vicino. Ha visto quando vai al mercato del pesce? Che vedi il pesce morto con quell'occhio, tipo il luccio, no? Avete visto un luccio? Avete visto un luccio morto al mercato del pesce? Hai visto che c'ha l'occhio fisso? E qui ne incontro tanti, no? Per la professione che faccio. Allora bisogna di metterci un freno, Matteo. E bisogna farlo perché si stanno espandendo. No, davvero. Come fosse un virus. Ne vedo tanti in giro. però siamo maggioranza in Italia, siamo maggioranza, i cretini li rispediamo al loro posto, non c'è problema. Su questo non ho convinto. Sono tanti, però sono di meno. Molto bene. Allora, che c'è? Sì. Non ti sento. Quando si vince. E poi si vince. Va bene. Allora, Matteo, abbiamo parlato del 5 Stelle. Di là come è messa la situazione, che mi sfugge un po'. Cioè, nel centro-sinistra, no? La c'è. Bisapia, che ho visto che si incontra con Prodi per vedere di sistemare un po' le cose. Poi, aspetta, aspetta. Poi c'è Renzi, che sta andando da parte col treno e fa il sugi la ritaglia. E speriamo non sia il treno, compreso io oggi, perché sennò al comizio non ci arriva più, perché c'aveva un bel po' di ritardo. Ma comunque sia, insomma, per venire a Firenze. Ecco, lì la situazione com'è? Perché, naturalmente, sapere chi c'è anche dall'altra parte è importante, no? Per preparare la battaglia. Ragazzi, siamo in Toscana, ma guardiamo in casa vostra. C'è un sindaco a Firenze che, pensando di fare lo spiritoso, va a urlare Allah Bar nei convegni. E fa il sindaco a Firenze. Agli occhi da Lucio, secondo me. C'è un governatore della Toscana che un giorno si fa la foto con i suoi amici rom e il giorno dopo con i suoi amici profughi. Peccato che in Toscana ci siano tanti toscani che non si fanno foto con lui. E se si occupasse anche dei toscani e degli ospedali della Toscana, il signor Rossi, invece di chiuderli, non farebbe una brutta cosa. C'è Renzi. Non fate così, vai. Tanto ormai è bollito, anzi è ribollito, quindi non... Renzi, per tre anni, e Paolo ne è testimone con i suoi parlamentari in trasmissione, per tre anni, io dicevo, blocchiamo gli sbarchi, blocchiamo le partenze, fermiamo le navi dell'ONG, aiutiamo la Libia così di ferma a casa sua. E per tre anni mi hanno detto, non si può, razzista, fascista, populista, nazista, leghista. E Renzi quest'estate ha scritto un libro ed è arrivato alla conclusione, aiutiamoli a casa loro. Ci ha messo un po' di tempo, ci ha dovuto scrivere un libro, gliel'hanno spiegato in più lingue, guarda caso gli sbarchi sono diminuiti, poi diminuiscono fino alle elezioni e poi dal giorno dopo, per quello che riguarda, raddoppiano e tornano esattamente quelli di prima. Io ho visto che in Toscana voi mantenete pagando colazione, pranzo e cena 12.000 clandestini e secondo me è una vergogna, perché quei soldi dovrebbero essere dati ai toscani in difficoltà e non ai soggiornanti, negli agricuristi, negli alberghi o nel lungomare. Sono messi male a sinistra. Però ti dico che non sono tanto preoccupato né del PD, né del 5 Stelle, né di Bersani, né di Bersani. No, possiamo complicarci la vita solo noi. Cioè il PD ha già dato, i 5 Stelle lasciamo perdere, se noi non facciamo errori andiamo a vincere. Ma il problema non è solo vincere, perché già in passato abbiamo vinto. Io non sono qua stasera a dirvi datemi il voto perché voglio vincere. Io sono a dirvi se avete voglia facciamo un percorso insieme che dura non 5 ma 10 anni, non per vincere e mettere lì qualche ministro, ma per ripulire e rilanciare l'Italia che deve tornare a correre. Io voglio vincere per fare le cose che mi provento di fare, non per litigare il giorno dopo. Vedi, guardo in casa nostra, non guardo in casa altrua. Cos'è che ti preoccupa, come dici te, in casa tua? Ma che magari c'è qualcuno che guarda un po' di qua e un po' di là? Chi, Berlusconi? Ma no, mai per l'armario di Berlusconi. No, che c'è? Per io di politica non me l'intendo. Ma diciamo che in Parlamento qua la questione delle banche la state pagando sulla vostra pelle e io ancora oggi non l'ho capito perché Forza Italia abbia votato insieme al Partito Democratico per il decreto salvabanchi che ha salvato i banchieri e non i risparmiatori. E questo non l'ho mica capito. Però facciamo che sia stato un errore. Settimana scorsa ci sono le elezioni in Germania al 24 settembre, fra 15 giorni. C'è stato un dibattito affascinante tra la Merkel e i Schulz. Su una cosa si sono trovati d'accordo. Dobbiamo evitare che la Turchia entri in Europa. Bene, pienamente d'accordo. È una battaglia della Lega da dieci anni. La Turchia è un regime islamico che non è e non sarà mai Europa, per quello che mi riguarda. È la storia insieme. Si trovano d'accordo da Merkel e Schulz e mi esce il giorno dopo uno di Forza Italia che dice chi? Tajani, presidente del Parlamento europeo, che dice no, dobbiamo tenere aperte le porte dell'Europa per la Turchia. Tieni aperte le porte di casa tua se vuoi per la Turchia, non quelle di casa mia né quella dell'Europa. Quindi diciamo che bisogna, anche perché in Toscana, lo sapete, per tanti anni la sinistra ha fatto quello che ha voluto perché non c'era opposizione, perché c'era qualcuno che faceva finta di fare opposizione e si accontava di tre posti nei consigli d'amministrazione per stare zitto e non fare niente. La Lega non è nata per fare queste robe qua. O si vince o si muore. Ma tu parli di Verdini? Ah, Verdini. Io ho detto niente. Ok. Ascolta, con Fratelli d'Italia tutto a posto, no? Sì, tutto bene. L'unico problema è mettersi d'accordo sul fatto che l'Italia è bella, è lunga e diversa. Sono 8.000 comuni, sono 8.000 campanili e la storia insegna che se viene deciso tutto in un ufficio a Roma o, peggio ancora, in un ufficio a Bruxelles, non va bene né per Scandicci, né per Treviso, né per Palermo. Che vuol dire? Vuol dire che l'Italia sta insieme se diventa una Repubblica federale, moderna, efficiente, solidale, che valorizza le autonomie. Ho capito, cioè... Che valorizza le autonomie. Non la difesa della patria in generale, ma delle singole parti che compongono... Io sono per la politica a chilometro zero. Scusa. Per l'agricoltura a chilometro zero, apro e chiudo la parentesi, molta politica se ne frega, ma è uno dei primi cinque punti che io sottoporò agli alleati per andare al governo, difendere l'agricoltura italiana, gli allevatori italiani, i pescatori italiani, perché io non voglio l'olio tunisino, il riso cabogiano, le arance marocchine, il latte in polvere, il grano con i pesticidi, basta. Basta. Voglio l'olio toscano, non l'olio tunisino. Guarda lì, non c'è. Quella è un'altra direttiva europea votata sia dal PD che da Forza Italia, la direttiva Volkestai, che mette a rischio 300.000 posti di lavoro. E come Macron in Francia è stato eletto e ha iniziato a difendere le imprese francesi dicendo io difendo i miei operai e i miei lavoratori, una direttiva che mette a rischio 300.000 posti di lavoro nel commercio e nel turismo, se andiamo al governo, noi andiamo a Bruxelles e gli diciamo o cambiate la direttiva perché le nostre spiagge ce le gestiamo noi e i nostri mercati ce li gestiamo noi, oppure ognun per sé ed io per tutti perché si sta meglio soli che mali accompagnati in alcune occasioni. Allora Matteo, quando abbiamo ancora? Una decina di minuti? Io posso star qua fino alle due, due e mezzo. Io ho un'opera a partire alle sei. Allora, facciamo un'altra dieci minuti così, no? Si può? Sì! Consetto. Consetto. Sì! Sì, capito? Ok. Allora. La legittima difesa. La legittima difesa. Prego. La signora è un'intervista fisica. Voi vivete in una regione governata dal PD, in una provincia governata dal PD, in un comune governato dal PD e parleranno di sicurezza. Il PD, il Partito Democratico, è riuscito ad approvare in Parlamento una legge che prevede la legittima difesa di notte, di notte, quindi se avete la tabaccheria o la farmacia o se domani mattina ve ne trovate uno con il passamontagna e il bastone in casa, dovete chiedergli di ripassare più tardi, perché se vi rapina col chiaro voi per difendervi è un po' un casino. La proposta di legge della Lega è ferma purtroppo in Parlamento sull'articolo 52 del Codice Operale, la riassumo in una riga. È una legge che avrebbe potuto fare mio figlio, purtroppo le cose facili a volte alla politica non piacciono ma sono le cose più efficaci. Sa qual è la legge, signora? La legittima difesa è sempre e comunque legittima difesa. Punto. Punto. Fai il raffinatore e sai quello che rischi. Allora, domattina sei a novembre, Matteo. Immigrazione. Colpo di telefono al comando della Marina Militare Italiana e della Guardia Costiera, le navi italiane hanno il dover di salvare tutti, soccorrere tutti, curare tutti, ma riportarli indietro al porto da cui sono partiti. È fatto di vieto di spartarli in un porto italiano. È un secolo fa, Paolo, poi la storia ha i numeri, la politica è il cuore, ma sono anche numeri. Torniamo al 1917. I miei nonni, Pacellani, ma non l'ho più, hanno fatto la guerra. Nel 1917 i nonni o i bisnonni di Iegua combatterono per difendere i confini. Ora io penso che un po' di quei nonni e bisnonni si siano ricoltando della tomba, visto che lo stesso esercito che una volta moriva per difendere i confini, adesso muore per far varcare illegalmente i confini a un esercito di centinaia di migliaia di disperati. Ma di più, e torno alle culle, è il vero cuore del problema. Sapete quanti bambini nacquero in Italia nel 1917, in piena prima guerra mondiale? 676.000. Con le bombe che arrivavano in testa, i nostri vecchi misero al mondo in quell'anno 676.000 bambine e bambini. Sapete quanti ne sono nati l'anno scorso? Senza bombe, gli austriaci, i carri armati, non 676.000. 460.000. 200.000 bambini in meno. Un paese che non mette al mondo figli, che manda all'estero a studiare e a lavorare i suoi ragazzi perché in Toscana e in Italia non c'è posto, se non con lo stage gratuito per tre mesi è finito lo stage che ha dato, ha dato, che perde anche gli anziani, che manda i pensionati che se lo permettono in Portogallo, in Spagna, in Grecia. Noi perdiamo i giovani, perdiamo i bambini, perdiamo gli anziani e ci riempiamo di clandestini. O vinciamo le prossime elezioni, mi chiedo di tenere a mente questo, non saranno elezioni. O si vince o si muore. Perché se non si vince gli regalano la cittadinanza, il diritto di voto, la casa e il lavoro. Tra cinque anni siamo noi che dobbiamo prendere il barcone, andare a chiedere asilo politico in Libia, in Marocco, perché in Toscana non c'è più posto per noi e siamo i rifugiati su pianerottolo di casa nostra. Abbiamo sei mesi per giocarci tutto. Io non so se vinceremo, però ci metto tutto a me stesso. Se il buon Dio mi dà l'energia e la salute e se voi l'avete voglia io non mi fermo dalla mattina alla sera fino a che l'Italia non torna a essere Italia. Un paese bello, rispettoso e libero. va bene Matteo. Direi che le cose fondamentali le abbiamo dette tutte. Ce n'è una. La legge sull'eofanasia. Sì. Ma ce n'è una che riguarda 4 milioni e 200 mila italiani. È quella 2 giorni vuol dire pranzo, cena, pranzo e cena. Ok? Riescono a farne uno perché non c'hanno i soldi. E se gli arriva una spesa improvvisa di 500-600 euro non sanno come fare. Allora di fronte a questa gente, qualcosa bisogna farlo. Io posso dire quello che stiamo facendo dove stiamo governando a livello regionale. Vi faccio tre esempi concreti di quello che abbiamo approvato e stiamo pagando e facendo in Regione Lombardia dove non c'è il signor Rossi ma ce n'è uno un po' diverso. Numero uno. È una nuova forma di povertà e tu spesso in studio l'ospiti. In Regione Lombardia da ormai tre anni stiamo aiutando decine di migliaia di mamme e papà separati o divorziati con dei bimbi a carico che non ce la fanno a tirare a fine mese. Con un assegno che arriva a 400 euro al mese e sono al 90% mamme e papà italiani. Perché purtroppo gli italiani spesso per dignità non vanno neanche a chiedere quello di cui avrebbero diritto. Quelli che non ne avrebbero diritto vanno a chiederlo e vanno a pretenderlo. Gli italiani invece se ne stanno a casa e quindi vediamo di entrarli a casa noi. Secondo quest'anno è la prima regione italiana che investe e spende 30 milioni di euro per un'altra categoria di cui non parla quasi mai nessuno. Gli invalidi. Non è possibile che gli invalidi prendano 280 euro al mese con un'invalidità al 100% e chi sparca domani mattina ne abbia mille grazie alla cooperativa Corazzo. 30 milioni di euro per accompagnare gli invalidi che perdono la mamma e il papà e rischiano di finire dimenticati in uno scapuzzino. E poi l'aumento delle pensioni più basse è assolutamente da fare però senza promettere numeri a caso. Non voglio venire qua facendo come il mio omonimo dicendo votatemi perché vi regalo 80 euro a testa. Poi peraltro se li hai ripresi puoi indietro. A molti con gli interessi. Però intanto no. Non ho 80 euro da regalare. Non abbiamo 1000 euro da regalare a chi rimane a casa. Molta di quella gente è gente che perde il lavoro a 50 anni. Non è possibile ad esempio che gli agenti di commercio se non versano almeno 20 anni i contributi perdano tutto quello che hanno versato per una vita. In un paese normale hai versato 10 anni i contributi e li ridò indietro fino all'ultimo centesimo perché non siamo qua a lavorare e a pagare l'Inf per farle le mosi dall'ultimo arrivato. Poi qualcuno in difficoltà ci rimarrà. Qualche povero ci rimarrà. Qualche delinquente ci rimarrà. Però mi piacerebbe riportare un po' di rispetto. Quello che non posso reintrodurre per decreto non posso fare una legge. Dovete portare rispetto. Bisogna reinsegnare il rispetto partendo dalle scuole. Sapete voi il problema? Che domani riaprono le scuole. Domani mio figlio va a scuola. Come i figli di molti di voi. E cosa succede? Che mancheranno migliaia di insegnanti e ci saranno migliaia di cattedestro per te. Perché c'è la gente che gira per le scuole di tutta Italia per 3, 4, 5, 6 mesi. A. Concorsi su base regionale e graduatorie su base regionale. Stai qui e insegni qui. Non è che giri per tutta Italia. B. Seconda cosa un po'. A proposito del rispetto io reintrodurrei, anzi se siete d'accordo noi reintrodurremo sei mesi di servizio militare, servizio civile obbligatorio per le nostre ragazze e i nostri ragazzi su base regionale. E' un po' di rispetto che torna a ossigenare le menti. Va bene, ci sarà tempo per dire tante altre. Perché la campagna elettorale sarà lunga, sarà faticosa e quindi per oggi diciamo basta così. Grazie Matteo, in bocca al lupo. Grazie a te Paolo, in bocca al lupo per la tua trasmissione. Domani sera a che ora? 21.15. 21.15 su rete 4. Ciao a tutti. Grazie mille. Io mi fermo, io sto qua, non vado da nessuna parte. Allora, grazie a Matteo Salvini. Venite dietro che faccio un selfie da Facebook. Vi abbiamo distribuito dei cartelli con la bella scritta sopra. Io direi che è il momento di alzarti.